Il Verbania vince per 1-0 lo scontro diretto con il Briga conquistando tre punti pesantissimi per la classifica generale al termine di una partita attesa, giocata sul filo del rasoio da parte di entrambe le squadre. Il Briga interrompe così la striscia positiva in termini di risultati che le aveva permesso di sarsi al di fuori della zona play-out. Andiamo in cronaca. Dopo un quarto d'ora di studio è del Briga la prima occasione del match. Il Verbania risponde al ventesimo con Constantin che indovina la traiettoria della punizione calciata da Lipari e indirizza la palla verso lo specchio di porta. Decisivo l'intervento difensivo di Miri Nui che salva un gol fatto allontanando la sfera. Bianco Cerchiati ancora pericrosi al trentunesimo nell'ultima vera occasione della prima frazione. Corner teso sul secondo palo, Constantin ci mette la testa ma spedisce largo. Inizio scoppiettante di secondo tempo con un'occasione per parte. Al primo minuto Barbaglia crossa dalla destra e trova la testa di Balgini. Bravo Chiodi a metterci Guantoni a salvare la sua porta. Passano soli 60 secondi e il Verbania risponde con Tettamanti il cui tira a giro dal limite dell'area è però respinto da Baccini. Il Verbania preme sull'acceleratore e al ventiduesimo si costruisce un'occasione sull'asse Tettamanti-Balestroni. Il sette conclude però alto la posizione defilata. Al ventiseiesimo episodio chiave della partita. Scontro tra Balestroni e Baccini. La palla arriva sui piedi di Tettamanti che insacca con un gran tiro dei 35 metri. Proteste vibranti del briga dal momento che Baccini era ancora a terra al momento del tiro. L'arbitre decide comunque di convalidare la rete. Gli ospiti reagiscono immediatamente allo svantaggio con una cavalcata inarrestabile di Balgini sulla fascia. Chiodi esce coi tempi giusti e chiude lo specchio. Passata la tempesta il Verbania torna a farsi vedere in avanti con Lipari che entra in area lasciando sul posto un paio di avversari e conclude sull'esterno della rete. Ancora nervi tesi nel finale di partita quando viene espulso un componente della panchina ospite. Finisce qui. Verbania batte briga per 1-0.